Senti Giovanni, si è aperta l'asta per Calafiori, base di partenza 60 milioni, dove finisce Calafiori secondo te? Calafiori secondo me alla fine resta a Bologna, perché non vogliono mollare su questo, hanno dato via Motta, daranno via Zirzè perché comunque c'è la clausola e giustamente il Bologna deve anche fare la Champions, quindi non penso che voglia togliersi qualcos'altro. Quindi credo che alla fine resterà a Bologna e magari anche per lui può essere buono giocare in un tipo di calcio diverso, molto più complicato perché l'italiano li mette a dura prova i difensori e sarà anche buono in ottica nazionale perché insomma alla fine, a parte Donnarumma, l'unico che ha fatto veramente bene è Calafiori nei costi europei.